Buongiorno a tutti da Radio Coppa 76, la radio di Conf Cooperative Viterb, ben trovati con la rubrica dedicata ai bandi e ai finanziamenti. Il bando di oggi è un bando della Regione Lazio e si chiama Io Scrivo. Dopo Io Leggo, che è stato il bando precedente, la Regione Lazio ha emesso questo bando dedicato non tanto alla lettura, ma a quanto pare alla scrittura e a parlarcene Paolo Fiorenzo. Ciao a tutti, ciao Daniele. Sì, dici bene Daniele. Dopo Io Leggo, la Regione Lazio ha promosso questo avviso pubblico, che ha finalizzato la promozione del libro e della lettura, comunque, e che appunto dal titolo Io Scrivo. Bando che prevede un finanziamento per l'anno 2014 di 140.000 euro e per l'anno 2015 di 60.000 euro, quindi in un totale di 200.000 euro. Il bando Io Scrivo è promosso dall'Assessorato Cultura e Politiche Giovanile della Regione Lazio e, diciamo, con questo bando l'amministrazione vuole contribuire alla crescita culturale del territorio, anche attraverso il sostegno a iniziative e attività di promozione e valorizzazione del libro e della lettura. Cioè, iniziative che si svolgono presso le scuole pubbliche del Lazio. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi fondamentalmente sono tre e i progetti che verranno presentati devono raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi. Il primo è quello di promuovere i progetti che mettono il testo letterario, il piacere di leggere e la scrittura al centro dell'attività, che favoriscono il coinvolgimento attivo degli studenti, sviluppando iniziative che riconoscono nel libro e nella lettura un elemento di socializzazione e di educazione sociale. Il secondo obiettivo è quello di stimolare l'esperienza della scrittura mediante nuove tecnologie di comunicazione. Il terzo e ultimo obiettivo è quello di favorire proposte didattiche finalizzate alla scrittura e alla lettura, soprattutto nelle zone prive di infrastrutture culturali e nelle aree metropolitane svantaggiate. Come avrete capito da questi obiettivi, i soggetti ammessi a finanziamento sono le scuole pubbliche, primarie e secondarie di primo grado del territorio regionale in forma singola e associata. In quest'ultimo caso, quindi in forma associata, è richiesta l'indicazione dell'istituto scolastico capofila. Quanto è l'importo del contributo? Il contributo non potrà essere superiore all'importo di 10.000 euro e comunque non potrà superare il 90% dei costi ammissibili. Le attività ammesse a contributo dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2014 e concludersi entro il 31 maggio del 2015. La scadenza delle domande è prevista entro e non oltre le ore 12 del 6 luglio, che però accade di domenica, abbiamo controllato, e non so se sarà data la possibilità fino al 7, perché come sempre le modalità con le quali inviare i progetti alla Regione Lazio prevedono anche la PEC, quindi non so se poi verrà data anche la possibilità del 7, questo al momento non si sa. E quindi le modalità di invio del progetto sono appunto tramite PEC, area servizi culturali chioccioalaregione.lazio.legalmail.it PEC naturalmente che deve essere del soggetto proponente o del soggetto capofila, oppure un plico spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno all'indirizzo Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, area servizi culturali, promozione della lettura e osservatorio della cultura, via del Serafico 127 00142 Roma, oppure consegna a mano, presso l'ufficio accettazione posta, sempre al medesimo indirizzo, che è situato al primo piano, alla stanza 191, e che è possibile acquisire i seguenti orari, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17 e il venerdì dalle 8 alle 15. Insomma, tutte queste informazioni comunque le trovate all'interno del bando. È un requisito indispensabile per la presentazione della domanda il fatto che il soggetto proponente avvii per la realizzazione del progetto stesso un rapporto di stretta collaborazione con almeno una realtà culturale del territorio, che sia associazioni, fondazioni e istituzioni culturali ed anche multiculturali, che svolgano regolarmente una comprovata attività di promozione del libro e della lettura, con almeno una sede nel Lazio, comprese quelli operanti per la salvaguardia della memoria storica dei territori della regione, oppure sia un comune o una provincia, oppure che sia una piccola e media impresa della filiera produttiva del libro. Quindi diciamo che questo è un po' come tra virgolette il famoso bando scuola, quindi associata ad una scuola ci deve essere almeno una di queste tre diverse realtà che abbiamo appena elencato. Ciascun istituto proponente, appena all'esclusione, può presentare un solo progetto, anche nel caso di proposte progettuali presentate in qualità di partner. E deve allegare l'istanza con i dati anagrafici dell'istituto proponente o capofila e una descrizione dettagliata delle attività previste dall'iniziativa, per la quale si chiare il contributo dell'amministrazione regionale, per un massimo di due cartelle. Due cartelle sono praticamente due fogli a quattro scritti in Word, con allegati curricula delle professionalità coinvolte nel progetto. E questo è un punto molto importante, come vedremo poi nella valutazione. E inoltre deve presentare una scheda finanziaria di progetto con evidenza delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti. Le domande potrebbero essere richiamate inammissibili se sono presentate fuori termine, se sono presentate da soggetti privi dei requisiti che abbiamo visto poc'anzi, non vengono presentate secondo le modalità di spedizione, se sono riconducibili ad un medesimo proponente, sia se presente singolarmente che in forma associata, se sono prive degli allegati che abbiamo poc'anzi menzionato, se sono prive della firma del dirigente scolastico del soggetto proponente e se non contengono l'individuazione del soggetto capofila nel caso di progetti presentati in forma associata. Inoltre non potranno ottenere il contributo le scuole che beneficiano per lo stesso anno di altro contributo concesso per lo svolgimento di attività culturali ai sensi della legge regionale 16 del 2008 e che, avendo beneficiato nel triennio precedente di contributi regionali ai sensi della legge che abbiamo appena detto, non abbiano realizzato l'iniziativa o non abbiano presentato adeguata rendicontazione. I progetti verranno valutati da una commissione che è formata da un dirigente regionale della direzione regionale competente, da due membri esterni dell'amministrazione regionale e da un dipendente regionale con finzioni di segretario e la commissione verrà istituita con decreto del presidente della regione Lazio. La commissione, dopo aver valutato l'ammissibilità o l'inammissibilità delle proposte progettuali dal punto di vista formale, avrà a disposizione 40 punti per la valutazione. Questi punti sono così distribuiti fino a un massimo di 15 per la qualità dell'idea progettuale, fino a un massimo di 10 per la coerenza con gli obiettivi di cui abbiamo parlato all'inizio, fino a un massimo di 8 punti per l'affidabilità gestionale ed economica del cronoprogramma e per la previsione di eventuali apporti gratuiti di attrezzature e servizi se documentati e fino a un massimo di 7 punti in relazione ai curricula delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto. Quindi su un totale di 40 verranno ammessi, superano la valutazione, i progetti che avranno avuto almeno 25 punti, quindi 25 su 40 verranno ammessi. Poi, come sempre, in base alla disponibilità dei fondi, verranno ammessi a finanziamento oppure ammessi ma non finanziabili. Il contributo, ci saranno due fasi di erogazione. La prima fase, pari al 70%, a seguito della presentazione degli atti con i quali i soggetti proponenti hanno assunto le obbligazioni relative alla realizzazione del progetto. E poi ci sarà la seconda fase, a saldo, dopo la trasmissione di dettagliata relazione del relativo rendiconto finanziario, completo di tutti i titoli di spesa effettivamente sostenuti. E la presentazione delle obbligazioni assunte dal proponente relativa alla realizzazione del progetto deve avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2014, mentre il rendiconto consuntivo dell'attività svolta dovrà essere rasmesso entro il 31 luglio del 2015, pena la revoca del contributo. Come sempre, i titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario o ai partner di progetto, nel caso di progetto in forma associata, conformi e quietanzate secondo quanto risposto dalla normativa vigente. E non sono ammessi i costi per l'acquisto di attrezzature. Naturalmente, in serie di liquidazione, potranno anche essere operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati in presenza di documentazione in idonea a giustificare il conto consuntivo presentato. Questa è un po' la presentazione del bando in generale. Per eventuali informazioni o chiarimenti, le informazioni possono essere inoltrate entro in oltre cinque giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico all'indirizzo di posta elettronica cicristallini-regione.lazio.it che è appunto il responsabile del procedimento. E questo, Daniele, è il bando di oggi. Bene, da io leggo a io scrivo e vediamo quanto si scrive in Italia. Abbiamo qui sotto i nostri occhi alcuni dati Istat un po' vecchiotti perché risalgono al 2010 però a quanto pare sono gli unici disponibili almeno in questo momento. In Italia nel 2010 si contavano circa 2700 case editrici o altri enti dediti alla pubblicazione di opere librarie. Il confronto con il 2009 conferma poi un saldo negativo del settore. Il numero di nuovi editori infatti è stato inferiore a quello degli editori che hanno cessato l'attività. Nel 2010 c'è stato però un incremento complessivo della produzione libraria interrompendo la tendenza negativa degli anni precedenti. Rispetto al 2009 le opere pubblicate sono passate infatti da 57.558 a 63.800 con un aumento del 10,8%. In crescita anche le tirature la cui ripresa è più contenuta da 208 milioni di copie a oltre 213 milioni con un più 2,5%. Si è poi ridotta del 7,6% la tiratura media di ciascuna opera da oltre 3600 copie per titolo nel 2009 a poco più di 3340 copie nel 2010. Le case editrici si orientano verso una maggiore offerta per varietà e quantità delle opere un contenimento dell'attività di stampa. Tra il 2005 e il 2010 si è registrata infatti una crescita dei titoli del 6,8% e una contestuale decrescita del 23,6% delle tirature medie. Ecco, uno infatti pensa che pubblicando con le grandi case editrici la tiratura del suo libro magari è di 10.000 di 20.000 copie no, anche le grandi case editrici più di 3.000 copie almeno come prima tiratura non ti stampano poi vediamo come va a finire ecco, vediamo in quanto vanno via e a quel punto magari si passa ad una seconda tiratura di 10.000 copie poi se queste 10.000 copie vanno via come il pane ovviamente si fa una terza tiratura di 20.000 30.000 copie le piccole case editrici solitamente si attestano attorno alle 300 copie come prima edizione massimo un migliaio di copie ma in quel caso ovviamente l'autore ci deve solitamente mettere del suo ecco, le case editrici che piano piano stanno andando poi verso il cosiddetto ebook quindi il libro digitale che come costo di stampa come costo di produzione è piuttosto risibile ecco, il problema delle case editrici è appunto la carta stampata il costo della carta stampata nel 2011 abbiamo trovato anche altri dati poco meno di 26 milioni di italiani di 6 anni e più dichiarano di aver letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista per motivi non strettamente scolastici o professionali rispetto al 2010 i lettori di libri diminuiscono passando dal 46,8% al 45,3% della popolazione tornando invece alla produzione libraria la categoria diciamo più letta è quella della letteratura moderna i romanzi e i racconti pubblicati nel 2010 rappresentano infatti il 20% dei titoli e il 28% delle copie stampate si conferma una crescita sostenuta delle opere per ragazzi che rispetto al 2009 sono aumentati nel 2010 del 13,7% per numero di titoli e del 12,6% per tiratura tornando invece alla fronte dei lettori le donne confermano di essere le lettrici più assidue più assidue degli uomini leggono almeno un libro il 51,6% delle donne rispetto al 38,5% degli uomini le differenze di genere sono massime tra i 15 e i 44 anni e tendono a ridursi significativamente con l'avanzare dell'età dopo i 60 anni cioè gli uomini cominciano a leggere più o quantomeno come le donne a partire dai 60 anni le donne la quota più alta di lettori si riscontra tra i ragazzi e le ragazze con età compresa tra gli 11 e 17 anni parliamo del 60,5% avere genitori che leggono rappresenta un fattore che influenza i comportamenti di lettura dei figli leggono libri il 72% dei ragazzi tra 6 e 14 anni con entrambi i genitori lettori contro il 39% di quelli i cui genitori non leggono si legge di più al nord e nel centro del paese dove la percentuale di lettori è superiore al 48% della popolazione di 6 anni e più la propensione alla lettura è minore nel sud e nelle isole dove la quota di lettori scende sotto il 35% in italia anche chi legge legge molto poco il 45,6% dei lettori non ha letto più di 3 libri in 12 mesi mentre soltanto i lettori forti cioè chi ha letto 12 o più libri nello stesso lasso di tempo è il 13,8% del totale nel 2011 il 9,9% delle famiglie ha dichiarato di non possedere alcun libro in casa il 63,7% ne ha almeno 100 l'11,8% da 101 a 200 e il 14,4% più di 200 oltre 1 milione e 900 mila persone con età compresa tra 16 e 74 anni ha comprato libri giornali riviste o ebook su internet sono oltre un quarto 27,8% di coloro che effettuano acquisti online la quota di giovani lettori che scaricano giornali news e riviste da internet è pari invece al 53,9% e quella di coloro che consultano un wiki online è del 69% ecco sono dati fra l'altro che mettono in evidenza come il bacino di partenza come la famiglia di appartenenza come dire influenzi molto i percorsi di lettura la lettura stessa e quindi anche i percorsi di studio di un bambino che un domani sarà ragazzo e poi persona adulta è ovvio che se dentro casa non c'è un libro se nessuno dei due genitori legge ecco questo bambino avrà come modello appunto un modello maschile un modello femminile dove la lettura non viene contemplata poi per quanto riguarda sempre la lettura dei libri sarebbe interessante andare a vedere dove si leggono i libri cioè quali sono gli spazi dedicati alla lettura per capire poi fino in fondo almeno da un punto di vista antropologico chi è il lettore oggi perché molto spesso ecco rispetto al passato la lettura era un momento a sé no? della giornata uno ritornava a casa si ricavava uno spazio magari serale oppure pomeridiano e leggeva un libro cominciava la lettura di un libro oppure si andava in biblioteca oppure si andava al parco oggi con diciamo l'aumento della produttività ovvero i livelli di produttività richiesti ai lavoratori molto spesso la lettura del libro avviene nel metro molto spesso molto spesso la lettura del libro avviene sul treno quindi paradossalmente chi un tempo non veniva percepito come un lettore perché il pendolare di 40 anni di 50 anni fa era una persona che si alzava alle 5 della mattina spesso era un lavoratore un operaio o comunque sia faceva lavori manovali saliva sul treno andava sul posto di lavoro e poi se ne ritornava a casa e la lettura durante questo tragitto non era contemplata oggi che fanno parte del mondo dei pendolari non più soltanto le forze lavoratrici di un tempo ripeto gli operai ma fanno parte anche del mondo dei pendolari gli impiegati i ricercatori cioè un mondo che è aumentato vertiginosamente quindi quello spazio è diventato anche uno spazio di lettura perché altrimenti non ci sono altri spazi adesso io non so se tu leggi quanto leggi e dove leggi avendoci pure due figli mi trovo d'accordo con quello che dice Daniele perché io leggevo molto molto quando facevo il pendolare ho letto una quantità di libri in quel periodo enorme veramente comunque il viaggio è tempo morto tra virgolette quindi io almeno personalmente l'occupavo leggendo leggendo libri adesso invece avendo molto meno tempo a disposizione è tantissimo che devo leggere un libro perché proprio non c'è tempo infatti ma anche i dati che hai dato te secondo me sono un po' lo specchio perché gli uomini iniziano a 60 anni tra virgolette a leggere libri perché quando hanno un po' più di tempo fondamentalmente e questo dipende anche naturalmente dalla base culturale dalla quale provengono e mentre le donne leggono di più perché all'interno della statistica sono più tra virgolette le donne che hanno tempo perché magari stanno a casa le famose casalinghe è vero che nei grandi centri stanno scomparendo ma nei piccoli centri ci sono tantissime donne che ancora fanno le casalinghe e quindi avendo molto più tempo a disposizione giustamente lo occupano con un bel libro insomma per approfondire magari delle conoscenze delle curiosità perché si sa che la curiosità è donna e quindi hanno molto più hanno molti più stimoli magari anche a leggere mentre l'uomo insomma è più impegnato è più rude tra virgolette quindi se ha un po' di tempo o è appassionato di lettura o se no magari ha altri hobby generalmente così insomma sì questo è vero va considerato pure un altro aspetto leggendo queste statistiche il giudizio che molto spesso viene dato è un giudizio negativo in Italia non si legge più in Italia non si scrive più da una parte per quanto riguarda la scrittura la pubblicazione di libri c'è stato proprio un pullulare di piccole case editrici case editrici che fanno pagare insomma il numero di copie che poi vanno a stampare all'autore quindi è un libro sostanzialmente a pagamento dove la casa editrice t'assicura bene o male il codice ISBN quando invece la vera svolta ecco e chi va a pubblicare il libro a pagamento dovrebbe fare attenzione a questo aspetto la vera svolta è la distribuzione e la distribuzione non è quella online perché se una casa editrice ti dice guarda non ti preoccupare la distribuzione avviene online come se per miracolo di fronte a un miliardo di siti internet uno va proprio su quello è difficile no? sostanzialmente anche quando si consulta la si consultano le pubblicazioni online si va sempre sulle grandi si va prevalentemente sulle grandi case editrici ecco la distribuzione non è quella online la distribuzione è quella che avviene libreria per libreria in modo classico perché poi il lettore è lì che incontra il libro quindi c'è questo primo aspetto appunto da prendere in considerazione tante case editrici che sono sorte nel corso degli ultimi anni molte di questi fanno pagare all'autore la pubblicazione perché poi il gioco è io te lo pubblico molto spesso manco te lo vedo molto spesso non faccio nemmeno un lavoro di editing sul testo poi di fatto tu te lo paghi perché quando vai ad acquistare quantitativi di 300 500 copie 1000 copie insomma vuol dire proprio che ti stai pagando la pubblicazione di sana pianta e oltretutto l'altro aspetto da tener conto quando ci si rapporta ad una piccola casa editrice è anche la possibilità di partecipare a concorsi o meno anche la possibilità di vedere il proprio libro piazzato nei vari festival ecco lì sta la forza della casa editrice nella distribuzione nella possibilità di partecipare a concorsi e nella possibilità di prendere parte a dei festival se questi tre elementi mancano allora l'autore farebbe meglio o farebbe bene a pubblicarsela per conto suo a questo punto uno scrive il test lo trasforma in un file pdf lo aggiusta diciamo con i programmi di grafica lo mette sulla rete e vede come va quindi il primo aspetto da considerare è appunto questo la trasformazione del mondo delle case editrici non sono più quelle di una volta non esistono più solo ed esclusivamente i grandi editori ma c'è un sottobosco di piccole case editrici molte funzionano molte altre diciamo funzionano funzionano meno una trasformazione che poi è avvenuta c'è anche un'altra trasformazione da prendere in considerazione se uno guarda i cataloghi delle grandi case editrici vede e si rende conto che c'è una maggiore attenzione alla letteratura perché è ancora diciamo l'unica forma di scrittura che resiste all'intrattenimento televisivo il saggio ad esempio che una volta andava per per la maggiore una volta si leggevano i grandi classici della letteratura e poi la produzione che andava per la maggiore era appunto quella dei saggi un'altra Italia un altro contesto sociale che è completamente cambiato oggi invece la letteratura è l'unica che regge l'urto appunto dell'intrattenimento televisivo dall'altra però se uno presta attenzione noterà che le grandi case editrici tendono sempre di più a pubblicare i classici no? oppure grandi autori che sono diventati classici in vita cioè tendono ad andare a botta sicura altrimenti se poi qualche talent scout nota come dire uno scrittore in erba che potrebbe avere un futuro si procede ad una tiratura molto limitata come abbiamo visto dall'altra il secondo aspetto che va considerato è il il modificarsi dei tempi dei modi e delle modalità stesse di lettura non è vero che è calato il numero di lettori da una parte c'è uno stimolo alla lettura che è mostruoso non di libri però se ci fai caso un essere umano è bombardato di scritte durante la giornata quindi c'è proprio un sovraccarico di lettura ovviamente non è una lettura letteraria non è la lettura di un libro però se uno vuole essere preciso un essere umano legge molto di più oggi che in passato questo dal punto di vista proprio della lettura pura la lettura del messaggino la lettura delle testate online testate giornalistiche online la lettura di whatsapp la lettura di facebook ecco quindi come dire a fronte di questo sovraccarico di scrittura e quindi di lettura ovviamente c'è una schermatura maggiore tra l'individuo e il libro l'accesso al libro era dettato anche in passato da tutta una serie di ragioni riscatto sociale fascinazione era sempre un momento particolare che non subiva alcuna intermediazione no? lavoro lettura gioco lettura in mezzo non c'era niente oggi tra me e il libro c'è l'intrattenimento televisivo ci sta whatsapp ci sta facebook ci sta una marea di scrittura e un altrettanto impegno alla lettura che ovviamente prima che mi viene in mente di prendere un libro beh insomma ce ne passa perché siamo bombardati di caratteri siamo bombardati appunto di scritte e poi c'è appunto una modificazione delle modalità e dei luoghi stessi della lettura come abbiamo detto prima la casa la scuola la biblioteca il parco il tempo libero era appunto il luogo privilegiato dove all'interno del quale si andava a ricavare il momento appunto da dedicare alla lettura oggi che invece il problema non è più il tempo libero perché il tempo libero non c'è più ovviamente uno ricava ricava degli spazi nel passaggio tra un lavoro e l'altro nel passaggio dalla casa al posto di lavoro quindi uno per poter capire bene come si sta trasformando il mondo dei lettori e il mondo anche degli scrittori perché poi tanti hanno cominciato a scrivere dei testi in treno c'è pure quest'altro aspetto uno dovrebbe per capire appunto questo mondo e la trasformazione di questo mondo dovrebbe andare ad indagare soprattutto quelli che Marco G un antropologo francese definiva non luoghi Marco G ha scritto appunto un bel testo dedicato appunto a questi non luoghi che si sono venuti a strutturare nell'epoca posmoderna e sono non luoghi dove appunto comincia ha cominciato e sempre di più si svolge la vita delle persone prima erano luoghi di passaggio di attraversamento la metro non è che ce la siamo inventata noi la metro esiste almeno da un secolo e mezzo però era un luogo di collegamento tra due altri luoghi dove si svolgeva poi effettivamente la vita quotidiana con una differenziazione marcata il luogo di lavoro era il luogo di lavoro la casa era la casa era il luogo dell'intimità il luogo del privato oggi la casa è diventata sempre più una succursale quando va bene del luogo di lavoro quindi questi passaggi erano appunto luoghi di passaggio erano momenti di intermediazione tra un punto e l'altro delle pure semplici tra virgolette linee rette invece oggi diventano sempre di più luoghi dove il tempo che non è più libero ma viene costantemente occupato dal lavoro costantemente occupato dalla produttività diventano luoghi dove liberare degli spazi per poterli dedicare a se stesso ecco questo andrebbe poi indagato cioè luoghi dove non sono più non sono più luoghi di passaggio ma sono luoghi dove si svolge appunto la vita di un individuo che per certi aspetti è anche come dire assurdo non a caso ad esempio se uno vede anche la le serie storiche degli attentati no? dice che c'entra no? è interessante pure quel dato perché in passato gli attentati non venivano mai fatti nelle metropolitane non venivano mai fatti in questi luoghi di passaggio oppure se avvenivano come sono avvenuti ad esempio sui treni oppure sugli aerei erano legati sempre a circostanze particolari oggi invece si tende a colpire queste infrastrutture questi luoghi perché anche dal punto di vista del terrorismo probabilmente si è capito che quelli sono i luoghi della vita reale sono i luoghi dove appunto gli individui vivono e quindi è come mettere una bomba appunto dentro la banca dell'agricoltura è come mettere una bomba dentro dentro il palazzo dove abiti perché il palazzo dove abitavi oggi di fatto non lo abiti più perché abitare non significa semplicemente andare a dormire no? i luoghi dove invece abiti sono sempre di più luoghi collettivi sono sempre di più luoghi di passaggio da una sfera all'altra una sorta di terra di mezzo no? e magari da questa terra di mezzo come con il film il signore degli anelli nascerà una nuova umanità dopo uno scontro ferocissimo sì in effetti questi luoghi si creano una vita parallela tra virgolette nel senso che poi questi luoghi io insomma avendo fatto il pendolare tendi a viverli proprio cioè quella è la tua famiglia quella diventa quasi il treno la metropolitana con gli amici quando viaggi sono loro il tuo quotidiano è loro fondamentalmente perché poi a casa ci torni a dormire nel luogo di lavoro ci lavori e va bene anche lì è un'altra vita parallela eh sì insomma sono abbastanza d'accordo su quasi tutto quello che hai detto insomma direi di sì insomma bene grazie a Paolo Fiorenzo grazie a voi ciao Daniele un saluto a tutti i nostri radioascoltatori bandi e finanziamenti oggi abbiamo parlato del bando io scrivo bando della Regione Lazio tutte le informazioni sul bando si possono trovare all'indirizzo www.regione.razio.it poi per chiunque volesse fare un bando e costruirlo assieme a noi di Conf Cooperative Viterbo l'indirizzo lo sapete sarà da Poggino 76 a Viterbo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 18 e quando varcate la porta chiedete di Paolo Fiorenzo un saluto a tutti e alla prossima settimana sempre su Radio Copp 76 la radio di Conf Cooperative Viterbo